E poi sta a vincere le partite senza la punta, senza Alessandro Cerone. Come c'è più? Che svolta? Perché non c'è più? Per me la spalla. Oh, attenzione a spalla. Io gli ho detto real. Galla! Per me la spalla. È immobile o al Serie C? No, c'era Gesmonde, però non stava con loro. Non c'era anche con loro, perché mi ricordo Catao e tutto il resto. Ma Gesmonde è diversi per squadra. Avevo di mano il Piacentini, Catao e Catao. Bravo, bravo! Bravo, bravo! E quindi ora, piano piano, con lavori... E' vero, io avevo 23 anni c'era, non c'è più. C'è stata una squadra di pischelletti. Non c'è, non c'è. Non gli interessa. Cioè, io avevo un sacco di pischelletti. Io avevo un sacco di pischelletti. Ma quello che mi fa? Ma stai, non fanno, non per me. Vabbè, ma il giocatore è chiunque vecchi, dico. Sono contenti. Uuu, che ha salvato! Cosa vuoi? Adesso. No, la poinzione, la ha salvato sulla linea. Ah, la poinzione. La ha salvato sulla linea, io. La ha salvato sulla linea. Eh no, la ha salvato sulla linea. Ok, la go. Oh, Dio, snorso. Perché in lista rimangono anche quelli vecchi. Quindi con il numero 6 ci stanno 4. Tutti quelli hanno già domini a te. Eh, lo so, lo so. Quindi non sapevo quale ho messo... Quell'altro diceva il 5 oggi. Eh, bravo. Quindi sei di Polito, ok. Dopo i moditi. Sì, ma non so male. Sì, ma non so male. Ok. Ok. Ciao. Ok. 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 Sono pure a Mallorca, non mi intende, cioè che non arrivano un tempo, perché? La dovesse rimane l'unica squadra che non ho visto Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.